Oggi sono qui a parlarvi di PSG, Progetto Sport Giovani, che è l'iniziativa che abbiamo fatto partire da un anno. Perché innanzitutto abbiamo deciso di dargli questo nome così altisonante? Perché proprio ci contrapponiamo all'idea che c'è di calcio in questo momento. C'è un PSG che è quello legato a tutto il mondo dei soldi, tutta l'attività economica che ci gira intorno e c'è un PSG il nostro, Progetto Sport Giovani, che invece è legato alla sfera riguardante il vero calcio, la vera finalità dello sport. Questo è quello che vogliamo fare e quello che stiamo facendo, riportare lo sport a una dimensione umana e sociale. PSG da quando è nato ha subito conquistato l'attenzione di tanti ragazzi, un po' perché abbiamo cercato di entrare in sintonia con loro per mezzo dei canali che loro utilizzano, quindi principalmente i canali social e un po' perché abbiamo cercato di metterli nelle migliori condizioni possibili per esprimersi dal punto di vista sportivo. Quindi abbiamo conquistato nel tempo sempre di più la fiducia di questi ragazzi e nel tempo abbiamo conquistato la fiducia anche di un'importante società sportiva della città di Brescia. Ma l'intento è quello di portare la filosofia PSG anche in altre città, riportare lo sport al centro del discorso. Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno che anche voi diventiate parte del PSG. La vostra donazione ci serve per portare avanti il nostro progetto. Abbiamo bisogno di investire in formazione, nel miglioramento dei nostri allenatori sia da un punto di vista tecnico e tattico ma anche da un punto di vista della comunicazione relazionale. Abbiamo bisogno di materiale, abbiamo bisogno di spazi, abbiamo bisogno veramente di investire su un calcio e su uno sport bellissimo che torni a essere un punto di incontro per le generazioni di giovani che hanno davvero bisogno di questo tipo di iniziativa. Porta il tuo piccolo mattone, piccolo grande che sia e dacci una mano perché abbiamo intenzione di fare grandi cose. Grazie a tutti.